Salve a tutti, siamo di nuovo qui insieme per un'altra passeggiata Montessori e quest'oggi affrontiamo un tema che è assolutamente centrale nella pedagogia Montessori che è il tema dell'osservazione ed è anche un tema che particolarmente va insieme a quest'idea del ricevere passeggiando, del muoversi all'interno delle nostre esperienze educative con uno sguardo aperto, una ricettività a tutti i dettagli, a tutte le scoperte che lungo il nostro percorso possiamo incontrare sia quelle che ci aspettiamo sia quelle che non ci aspettiamo ed è proprio questa forma mentale, questa attitudine, quasi una sorta di postura mentale che è la postura dell'osservazione. Ecco quando parliamo di osservazione parliamo di un'osservazione che sia scientificamente valida ovvero dotata di un solido fondamento che parte proprio dall'assunzione e dall'osservazione dei fatti, dal raccogliere dei dati con attenzione, con scrupolo, con varietà, con ripetizione e farli poi reagire insieme, analizzarli, considerarli nasce dalla volontà e dal desiderio di mettersi in un'ottica proprio di osservazione e di ricezione per accogliere delle informazioni, osservare e far proprie tutte quelle informazioni che magari non sono sempre immediatamente visibili. Osservare un bambino a tutto tondo, cercare di cogliere i minimi dettagli, i vari aspetti del suo comportamento, del suo interagire con gli altri, del suo procedere nell'apprendimento, in tutti gli aspetti diciamo del suo vissuto e cercare di raccogliere tutti questi elementi sollevando e sospendendo qualunque giudizio, qualunque frettolosa interpretazione senza giungere a conclusioni immediate. Maria Montessori parla delle delizie e dell'umiltà. Quando si esprime così si riferisce proprio alla possibilità, grazie allo spogliarsi di qualunque pregiudizio, soprattutto di qualunque aspettativa, di qualunque ricerca già mirata e precostituita, poter raggiungere grazie a questo delle conoscenze che magari sono quelle meno in superficie, meno immediatamente visibili. Quindi osservare che cosa significa? Significa dedicare proprio possibilmente ogni giorno alcuni minuti del proprio tempo a fermarsi e a osservare i bambini. Se ci troviamo in un contesto scolastico, in una classe, il suggerimento è senz'altro quello di avere esplicitato il fatto che osservare i bambini è parte integrante del nostro lavoro. Non sarà uno sguardo giudicante, non sarà uno sguardo severo, ma soprattutto sarà uno sguardo neutro, sarà qualcuno che appunto assiste a questo meraviglioso spettacolo che è la vita, che si dispiega davanti ai nostri occhi e i bambini sono assolutamente in grado di abituarsi a quest'idea, di prendere confidenza con quest'idea. Chi è l'osservatore? L'osservatore è l'insegnante stesso, è l'educatore stesso che avrà una sorta di codice con i bambini, magari avrà una poltrona, una setia o un angolo in particolare che sarà il suo punto di osservazione, o magari avrà, come era nel mio caso, un quaderno, nel mio caso rosso e oro, un quaderno molto speciale, molto particolare e i bambini sapevano che nel momento in cui io ero seduta da qualche parte e tenevo in mano quel quaderno, non dovevo essere disturbata, che per i successivi 5, 10, 15 minuti sarei stata in osservazione e stavo facendo un lavoro, un lavoro molto importante che non andava interrotto. Così come io mostravo di non interrompere il loro lavoro tutte le volte che loro fossero intenti e concentrati in qualcosa, quello era parte del mio lavoro e i bambini sono assolutamente in grado di rispettarlo. Si possono avere poi osservatori esterni, si possono stabilire delle procedure perché anche dall'esterno arrivino degli osservatori, questi osservatori chi sono? Sono magari i genitori che periodicamente vogliono avere così l'esperienza di essere immersi nell'ambiente scolastico del proprio figlio e della propria figlia, possono essere dei colleghi, possono essere dei tirocinanti. Nel mio caso in particolare avevamo stabilito che il martedì fosse il giorno delle osservazioni e quindi i bambini sapevano che il martedì dalle 9 e mezza in poi ci sarebbe stata la possibilità di avere degli osservatori. Quasi tutti martedì alla fine avevamo degli osservatori ed era diciamo pratica comune, in realtà i bambini non li vedevano più, nel senso se l'osservatore si comporta in modo estremamente discreto, cerca di non stabilire un contatto di nessun tipo con i bambini, chiaro che non l'ignorerà in modo sfacciato, se un bambino soprattutto i piccolini a tratti tendono ad avvicinarsi e a chiedere qualcosa, sorriderà però cercherà di non incontrare lo sguardo, senz'altro di non interagire e i bambini poi sono comunque più al loro agio ancora dell'osservatore, sono assolutamente consapevoli di cosa significa svolgere un'osservazione se sono stati a questo preparati. È molto molto utile a mio avviso scambiarsi delle reciproche osservazioni tra i colleghi della scuola, della classe accanto o anche colleghi esterni, è un dono prezioso, è veramente un regalo che ci si fa gli uni gli altri, chiaramente tutte le volte che viviamo l'osservazione come proprio la possibilità di cogliere dei frutti inaspettati e talvolta l'osservazione ci viene in aiuto anche in quei momenti in cui magari ci sono dei momenti di fatica, di rumore, percepiamo che l'ambiente non è più ordinato, non è più così orientato verso la concentrazione del lavoro come vorremmo, alle volte la mia esperienza dice che anziché suonare un campanello, battere un triangolo, battere le mani, richiamare all'ordine, richiedere immediatamente il silenzio di tutti, perché magari parecchi bambini sono distolti dal lavoro, sono distolti ma ce n'è sempre qualcuno che sta lavorando e che viene interrotto. A volte è molto più efficace sedersi e calmarsi noi stessi, cioè andare proprio a contagiare diciamo con la nostra postura mentale, fisica, l'ambiente che ci circonda e molto spesso questo è sufficiente perché si rientri in una dimensione di maggiore calma, di maggiore equilibrio. Cioè spesso, no, verso le dieci e mezza, undici del mattino, quel momento in cui sembra che ci sia un po' persi, c'è un attimo di stanchezza, di fame, di distrazione, di movimento, alle volte veramente è sufficiente sedersi un attimo, guardare i bambini per aiutarli a ricentrarsi e a ritornare su se stessi. È molto più nocivo interrompere qualcuno che sta al lavoro che accompagnarlo, ecco, silenziosamente, dolcemente, nel solco proprio della propria concentrazione e del proprio lavoro. Questo funziona anche a casa, funziona anche per chi magari in questo momento in particolare ai bambini a casa perché fanno didattica a distanza o perché hanno deciso di passare al homeschooling, alla scuola appunto parentale o addirittura proprio in casa propria. Siamo esposti al rischio opposto, siamo esposti a un'osservazione costante e ininterrotta, però un'osservazione costante e ininterrotta che rischia di non essere poi sempre obiettiva, sempre scevra appunto di pregiudizie, aspettative, cose da fare. Alle volte tendiamo a controllare anche troppo in questo modo i nostri bambini e quindi questo darsi questi momenti di osservazione è un modo per rallentare, per fermarsi e per restituire con lo spazio nella relazione che permette l'espressione più creativa, che permette la maggiore indipendenza e autonomia, che permette alle volte una risoluzione dei problemi spontanea che è sicuramente più efficace di quella che può derivare dal nostro intervento. È chiaro che tutte le volte che a casa o in classe succede qualcosa che mette a repentaglio la sicurezza dei nostri bambini o che oltrepassa il limite del rispetto reciproco, dell'opportunità, dello scambio nella relazione, è chiaro che a quel punto bisogna intervenire e fermare un comportamento inappropriato. Ma molto più spesso, se questo non è il caso, cioè se non ci sono dei pericoli o delle offese, diciamo, in corso che ci allarmano, molto spesso fermarsi ad aspettare, respirare, guardare e osservare le dinamiche ci dice molto di più su come aiutare i bambini a muovere verso una risoluzione di quella difficoltà che sta causando quel comportamento che cattura la nostra attenzione e magari anche il nostro disappunto. Ecco allora, quando osservare i nostri bambini? Da un canto saremo degli osservatori permanenti, da un canto avremo sempre quella sensibilità, quell'attenzione, quell'apertura. Cercheremo di cogliere, di abbracciare con lo sguardo, di ascoltare, di ricevere i segnali, e le espressioni dei bambini, di cogliere come funziona il nostro ambiente, sperando che ci sia armonia, che ci sia equilibrio, che ci sia un giusto connubio tra senso di libertà e senso di responsabilità. Da un canto saremo sempre vigili, cercando per l'appunto di non intervenire costantemente, ma finché è possibile di restituire ai bambini la possibilità di correggere loro stessi i loro errori, di raggiungere con i loro tempi e con i loro modi la meta che desiderano raggiungere. E per far questo, poiché magari saremo impegnati a far qualcosa, a lavorare su qualcosa in particolare, quando coglieremo magari anche con la coda dell'occhio o con un orecchio solo qualcosa che ci colpisce, sarà bene avere sempre con noi un piccolo quadernetto o una matita, qualcosa su cui appuntare ciò che vogliamo trattenere, perché tutto ciò che vediamo ci sembra importante e rilevante sul momento e poi molto spesso è difficile rimettere insieme pezzi alla fine della giornata. Allora io ricevetti in regalo questa piccola borsetta a tracolla e tempo addietro ed è una mia costante compagna di viaggio che tengo con me e dentro cui appunto conservo un taccuino, una matita dove appunto le cose che ritengo debbano essere appunto trattenute e conservate dalla memoria. Questa è l'osservazione anche più estemporanea. Poi ogni singolo giorno dedicare almeno 5-10 minuti, in momenti diversi della giornata, a sedersi e osservare il proprio ambiente è una pratica assolutamente preziosa. Ci si siede, ci si rilassa, si osserva e si comincia a ricevere l'ambiente. Ci si può chiaramente dedicare magari prima a fare una piccola carrellata mettendo anche la lista dei nomi dei bambini, chi sta facendo cosa e poi osservare a seconda anche delle esigenze magari una situazione specifica, un bambino specifico, concentrarsi sull'osservazione dell'ambiente, sulla disposizione del materiale sugli scaffali, sull'interazione dei bambini. Si può scegliere anche chiaramente un tema specifico. È chiaro che in 5-10 minuti non potremo osservare tutto, però saranno i nostri piccoli appuntamenti quotidiani per fermarci un attimo e ricevere l'ambiente e il gruppo dei bambini che abbiamo con noi. Tra l'altro io avevo sempre l'abitudine di sedermi con il mio quaderno rosso e oro e con una tazza di tè da sorseggiare durante l'osservazione. E questa cosa sembrava strana ai miei bambini, che quando io osservavo avevo la mia tazza, a volte venivano i genitori o venivano degli osservatori esterni e non avevano la loro tazza. E così decisero di organizzare un carrellino proprio solo per gli osservatori, dove avevano disposto un piccolo bollitore, una tazza, due fiorellini. Quindi c'era anche questo senso di accoglienza verso chi veniva ad osservare, non sentendosi bambini intimiditi, bensì in qualche modo anche onorati del fatto che qualcuno veniva ad essere loro ospite e a imparare un po' loro come facevano, come lavoravano, come si comportavano. Poi chiaramente esistono anche le osservazioni più estese e più prolungate. Se vogliamo dedicarci in modo particolare a un bambino, accogliere la curva anche della concentrazione del bambino, possiamo annotare a intervalli di tempo molto ravvicinati quello che vediamo, vale a dire proprio delle osservazioni fattuali. Il bambino si muove in quella direzione, il bambino tal e tali parla con, afferra questo oggetto, lo tiene in questo modo, lo porta in quest'altro punto dell'ambiente, inizia a lavorare con concentrazione, ripete, si distacca, ritorna e fare proprio dei grafici anche per capire in che momento il bambino, soprattutto parliamo dei bambini piccoli che lavorano nella scuola materna molto individualmente, molto sulla propria concentrazione e focalizzazione dell'attenzione, proprio a conquistare delle competenze specifiche, quando avviene questo assorbimento della mente, questo essere immersi profondamente in un lavoro, è lì che inizia veramente l'aspetto di apprendimento, di interiorizzazione della nuova competenza, delle nuove informazioni. L'osservazione sarà proprio quello strumento dunque che ci permetterà di porci le domande giuste, le domande che ci serviranno a elaborare delle strategie. Noi nel Montessori parliamo di lezioni in tre tempi, parliamo di una successione di tre fasi attraverso cui i bambini imparano. La prima fase è la lezione, è la presentazione, è la nuova informazione, è la nuova esperienza, il nuovo materiale a cui il bambino viene esposto da parte dell'insegnante. La seconda fase, il secondo tempo è la ripetizione, è l'esplorazione, è la variazione, è l'approfondimento, è la parte più importante, la parte più estesa, è la parte in cui proprio avviene il lavoro profondo del bambino. La terza parte è quella che spesso poi va insieme al linguaggio, è la conclusione, è il tirare le fila, è il passare in una dimensione maggiormente astratta e simbolica rispetto all'esperienza sensoriale concreta, diretta. Ecco, mi viene da dire che l'osservazione procede un po' per tre tappe, un po' nello stesso modo. La prima è la presentazione, ovvero è l'osservazione dei nostri bambini, è mettersi in questa postura osservativa di ricezione, di raccolta dell'impressione e proprio di guardare questo quadro vivente, meraviglioso, che si muove. La seconda è il far in qualche modo reagire tutte queste informazioni, di raccoglierle, è condensarle magari in un quaderno, in una risorsa in cui andarle a riguardare. Molto spesso a me capita di rileggere delle cose che ho scritto durante le osservazioni e di avere un'improvvisa lampadina che si illumina, di avere improvvisamente il riconoscere magari uno schema che si ripete, di cogliere un elemento nuovo in qualcosa che sembra non sbloccarsi. Sono delle fonti preziosissime le osservazioni. E poi c'è la terza fase appunto che è quella in cui vado a elaborare una possibile risposta, una possibile strategia a capire qual è il passo successivo che mi aiuterà ad aiutare questo bambino. Se Montessori è aiuto alla vita, è sostegno al naturale di spiegarsi dello sviluppo umano e del potenziale umano, l'osservazione è uno strumento importantissimo perché questo avvenga. Ecco, a me capita spesso di andare a fare delle osservazioni per svolgere delle supervisioni o per accompagnare delle situazioni e quello che mi raccomando sempre di fare è di tranquillizzare non solo gli adulti, che in genere sono di più in difficoltà rispetto alla sentirsi osservati, ma di mettere a parte i bambini del fatto che ci sarà un osservatore. Quando i bambini lo sanno, come dicevamo prima, sono consapevoli della naturalità di questo e quando sentono uno sguardo che si posa su di loro, uno sguardo comunque di rispettoso, discreto, appunto umide, come diceva Maria Montessori, deliziosamente umide, in genere non hanno difficoltà. Certo è che se non sono preparati a questo potrebbe invece per loro essere più difficile, quindi questo è senz'altro un'indicazione importante. A me è capitato una volta che ci fosse una piccola bambina che continuava a venire da me e cercare il contatto con me, l'interazione, perché trovava che io fosse un adulto un po' strano nell'ambiente, che non si comportava come gli altri che invece parlavano con i bambini. Io ho cercato di concentrarmi sulla mia scrittura, sorriderle e poi volgere lo sguardo altrove, di non incoraggiare questo contatto, ma lei non si dava previnta. E finché a un certo punto ha detto ho capito quello che devo fare, ha preso un pezzo di carta e mi ha scritto qualche parolina su questo pezzo di carta, perché si è ricordata di una presentazione nella quale la maestra le diceva non ti dirò quello che penso, ti scriverò quel che penso di modo che tu possa leggerlo. Erano i suoi primi esercizi di lettura e quindi lei provò a scrivere qualche parola su questo foglio di carta pensando che io stessi silenziosamente attendendo che lei comunicasse con me per iscritto anziché verbalmente. Ecco ovviamente non era quello il caso e la bambina non era stata diciamo avvertita e preparata di questo. Però i bambini poi con molta semplicità accettano, se c'è diciamo una risposta autentica, accettano la possibilità appunto che ci sia un osservatore quando capita che un osservatore entra nella nostra classe e si comporta in modo diverso da ciò che è previsto molto spesso sono i bambini stessi che li riconducono all'ordine dicendo no non avete il diritto di toccare queste cose e questa è la poltrona dell'osservatore, noi stiamo lavorando, insomma ci sono anche situazioni in cui i bambini stessi rimandano all'osservatore i confini del proprio ruolo e poi quando abbiamo accolto un osservatore nel nostro ambiente è sempre utile e importante avere dopo un piccolo scambio, raccogliere le sue impressioni, rispondere alle sue domande facendo bene attenzione che questo avvenga in un secondo momento magari fuori dall'aula senza disturbare i bambini. Ecco chi ha difficoltà con l'osservazione sono molto spesso gli adulti, a me è capitato non molto tempo fa di entrare in un ambiente di una casa dei bambini e trovare la maestra seduta in un angolo e tutto l'ambiente immerso in un intenso lavorare e facendo cose diverse, i bambini erano tutti intenti a lavorare e questa maestra si è subito alzata, mi è venuta in conto dicendo no ma io mi ero seduta un attimo ma in realtà ci sono e era proprio vero che lei c'era, c'era nel modo migliore del mondo, quando è possibile proprio questo sedersi, osservare i bambini che sono intenti nel loro lavoro vuol dire che ci sei, ci sei nel modo migliore ci sei come sostegno, ci sei come senso di accoglienza, di contenimento, sei disponibile ma non interferisci non interferisci con il loro vissuto questo è ciò che ci darà la possibilità di porci le domande migliori per accompagnare i bambini nel loro lavoro sono loro che lavorano, noi abbiamo la responsabilità nei loro confronti di essere delle guide, dei sostegni adeguati la responsabilità proprio intesa come l'abilità di trovare delle risposte ai bisogni e alla loro unicità ci sono a volte delle situazioni che ci scoraggiano, che ci mettono in difficoltà bambini che sembrano non trovare il loro equilibrio, la loro concentrazione che si muovono sembra senza meta, che vagano, che sono irrequieti molto spesso da un'osservazione emerge quello sguardo che si posa più a lungo su qualcosa quel passo che rallenta di fronte a una situazione, di fronte a un materiale che ci daranno quella chiave che ci serve per arrivare a rispondere al bisogno anche di quei bambini che magari è più difficile raggiungere immediatamente nelle nostre formazioni Montessori l'osservazione è anche una parte integrante e sono tante, tante, tantissime le ore durante le quali ci troviamo seduti ad osservare e all'inizio, alle volte quella sedia è un po' scomoda abbiamo magari, facciamo un po' fatica all'inizio, alle volte non è facile avere davanti a un quaderno per le successive 8 ore per le successive 3 settimane in cui riportiamo ogni 5 minuti ciò che vediamo magari eseguendo un filo rosso di un tema particolare magari vogliamo vedere come l'ambiente favorisce le caratteristiche e i bisogni dei bambini la loro comunicazione, la loro collaborazione, il loro orientamento o magari stiamo osservando la varietà di presentazioni e di lavori che l'insegnante propone ai bambini se sono lavori magari più manuali, più astratti vogliamo capire quali sono i legami, i rapporti però alle volte il tempo è veramente lungo e quella sedia comincia a sembrarci scomoda ma è assolutamente vero che dopo un po' se ci lasciamo proprio catturare dallo spettacolo che abbiamo davanti io personalmente trovo che è molto meglio cantare al cinema per quanto ami molto il cinema è uno spettacolo sempre nuovo, sempre diverso e assolutamente accattivante e così faremo attenzione a scrivere i fatti che ci si parano davanti non so se un bambino ripete sovente la stessa azione cercheremo di vedere quante volte ha ripetuto non diremo fa spesso questo, non fa mai, non fa sovente quest'altro cercheremo di dire per tre volte ha, non so, sollevato la matita o è uscito dalla stanza se un bambino ride non diremo che è felice ma diremo che ride o sorride se un bambino piange o si arrabbia diremo appunto che piange non che è triste o che ha espresso la sua opinione a tal altro bambino dicendo questo e quest'altro o che magari l'ha spinto o che ha rifiutato di fare qualcosa diciamo che dovremmo cercare sempre il più possibile di rimanere aderenti ai fatti i fatti sono l'espressione della vita interiore del bambino le sue parole, i suoi gesti, le sue scelte, i movimenti le sue parole e le sue relazioni con gli altri tutto questo è il materiale che la vita ci porta che porta alla nostra attenzione solo dopo aver raccolto questo materiale saremo in grado di attraversarlo riattraversarlo, ripercorrerlo metterlo a confronto con altri dati che avremo raccolto nel tempo quando parleremo dei bambini o del nostro ambiente o del nostro lavoro con i colleghi con chi collabora con noi o chi viene per una supervisione o quando parleremo con i genitori dei nostri bambini avremo un patrimonio ricchissimo di osservazioni che andranno a corroborare proprio l'esperienza anche di altro tipo che avremmo fatto con i bambini il nostro lavoro quotidiano con loro e allora vorrei concludere dicendo che l'osservazione è proprio l'arte dell'incontrare in profondità l'altro è quest'arte del abbattere qualunque barriera mentale e anche ambientale e proprio mettersi in un'attitudine di disposizione di ricezione, di ascolto, di accoglienza verso l'altro e sembra un paradosso sembra una contraddizione che questo avvenga non facendo niente in realtà facciamo moltissimo è una forma attiva del nostro guardare del nostro ascoltare del nostro pensare ma lo è nel profondo rispetto e nella più amorevole fiducia del lavoro del bambino che sta seguendo il suo maestro interiore che sta seguendo le proprie necessità i propri bisogni e che ha bisogno della nostra protezione del nostro supporto ma anche del nostro paziente e amorevole rispetto grazie a tutti grazie a tutti